Voce del verbo gambizzare, abbastonata, eliet motive di quelli storti nati con le gambe brutte che poverini il cancan non sarà mai il loro mestiere, ma per favore o piacere mi direbbe che ore sono nel cuore delle cose, chi e come vu, why, 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 my nuts in flammen anche adesso da così lontano io, wish you were here, per raccontarti la top 20 delle cose lofi e ridere a ridere con tanto gusto, ridere di tutto, tutto tranne noi, già rotolata ad un tappeto dopo tre tiri di canna, coi piedi come le scimmiette, con le treccine, il collo alto e un anello che avrei voluto infilarti al nasino per sembrare più November Rain che un funerale.